Il Pisa Mover ha iniziato il suo viaggio. Ad inaugurare la nuova navetta elettrica veloce ad alta frequenza tra la stazione ferroviaria di Pisa e l'aeroporto Galilei, davanti a una folta platea di cittadini e autorità, il presidente della regione toscana Enrico Rossi e il ministro dei trasporti Graziano Del Rio. Presenti anche il sindaco di Pisa Marco Filippeschi e gli assessori regionali e trasporti Vincenzo Ceccarelli e al turismo Stefano Cioffo. L'opera, prevista nell'ambito della programmazione comunitaria e realizzata tra 2014 e 2016, è costata 72 milioni e 469 mila euro, 21 dei quali di provenienza pubblica e ha una portata di 1.220 passeggeri per ciascuna direzione nell'ora di punta, all'incirca 2 milioni e mezzo di passeggeri all'anno. Sono opere che servono a dare un servizio prima di tutto, ma servono anche allo sviluppo, servono allo sviluppo del turismo, questo aeroporto è fondamentale per il turismo della Toscana e poi servono anche allo sviluppo economico in generale. Tre le fermate del Pisa Mover, i cui veicoli usano la trazione a fune a emissioni zero, la prima al binario 14 della stazione di Pisa, la seconda intermedia al parcheggio scambiatore da 1.400 posti e la terza in aeroporto. Credo che questo nodo plurimodale che consente di avere la possibilità di collegare la stazione con l'aeroporto e quindi il ferro con l'aereo e anche la gomma attraverso i parcheggi scambiatori e poi le piste ciclabili faccia veramente di questa opera uno degli esempi più avanzati che abbiamo in Europa. Ora si pensa già ai lavori per l'ampliamento dell'aeroporto di Pisa e all'accorciamento dei tempi di collegamento in treno tra lo Scalo Pisano e Firenze.